L'altipiano dell'Aquila. Ad Aquila degli Abruzzi il turista potrà sostare e riposarsi delle precedenti gite. La città di Federico offre tutte le comodità che si possono desiderare e ha un patrimonio di bellezze artistiche che richiedono parecchi giorni per essere visitate. Una ammirevole pubblicazione del Serra, edita dalle arti grafiche tanti anni or sono, mostra tutti i monumenti dell'Aquila in tutta la loro magnificenza. Il volume è davvero lussuoso, stampato nitidamente su carta patinata. Peccato che sia ormai diventato introvabile. Da Aquila si può raggiungere il castello di Fossa e quello di Ocre. Si può scendere a visitare le rovine di Amiterno, la città che detti i natali a Sallustio. Si può infine, per Paganica ed Assergi, salire al Gran Sasso. E' questo l'itinerario più frequentato degli alpinisti per salire al massiccio degli Appennini. E parliamo un po' del capoluogo dell'Abruzzo ultrasecondo. Aquila degli Abruzzi non mi è apparsa mai tanto civettuola e bella, come ora che ci sono venuto per brevora. Può darsi che la malinconia dei passati giorni, meglio dei lontani giorni del liceo, abbellì col suo velame rabbescato di ricordi dolcissimi o accorati questo scenario trepido dei primi passi nella vita. Non so. Certo che nella placidezza reale del meriggio di Orbo Sole, nell'umido manto di piova recente, piazza grande parca e sorrida, come nelle giornate inondate di luce. E alla malinconia dei cessati giorni, mi riconduce con dolce invito, quasi tenendomi per mano un amico dell'infanzia lontana, che mi attende e mi vuole tutto per lui, sia pure per un solo giorno, nell'orbita della sua placida vita casalinga di borghese felice. Gli rendo grazie in silenzio per le ore dolcissime che mi ha fatto passare in sua compagnia, nella rievocazione di giorni felici, tramontati senza possibilità di novella aurora. Nel meriggio freddo e umido sono uscito per le vie della città e mi sono confuso con la folla domenicale, che reca in giro la propria noia e i propri sogni. Aquila spiega sul dosso ridente di una mena collina la complessa molle dei suoi edifici, a 721 metri sul mare, tra i fiori dei giardini e l'occheggiar di ville. Alle spalle e di rimpetto le si schierano poderose montagne. Ai piedi scorre tortuoso un folleggiare ed alberi fronzuti, l'aterno, la cui valle si dilunga a destra e a manca, a perdita d'occhio. L'altipiano è assai ridente e invita a posare lo stanco viaggiatore. Una serie di colline sorge verso il nord e il sud. Da lungi, con la mole poderosa, dominano le catene del gran sasso, della magliella e del velino. Aquila offre allo studioso non comune importanza per la storia, che si perde nella lontananza dei secoli, e per l'arte, che si manifesta in cospicui monumenti. Quando fu fondata? Nel 1245, da Federico II, o nell'asso di tempo fra Odoacre e Teodorico, oppure da Corradino, figliuolo di Federico II? La questione fu dibattuta molto fra gli studiosi. A noi non interessa approfondirla. Pare che 99 capi di castelli viciniori fossero obbligati a contribuire alla fondazione di questa capitale dell'Abruzzo ultrasecondo, per cui poi avesse 99 quartieri, 99 piazze, 99 fontane, 99 chiese. Per ora è certo che nei riguardi del 99 vi è una fontana con 99 cannelle. Il resto, leggenda o storia, non ci appassiona troppo. Il 29 agosto del 1294 convennero in Aquila per l'incoronazione di Pietro da Morrone. Convennero numerosi principi, cardinali, prelati e oltre 100.000 persone. Nel maggio 1423 venne assediata da Braccio da Montone, che nell'anno successivo, in aspro combattimento con le truppe al comando di Giacomo Caldora, veniva pienamente sconfitto, tal che mortalmente ferito, periva poco dopo entro le mura della città stessa. Nel 1632, a seguito di movimenti pronunciatisi contro gli spagnoli, nelle feroci reazioni che seguirono, venne mandato al supplizzo Giacomo Rivera, di illustre famiglia aquilana. Nel 1799 Aquila insorse contro i francesi, ma, in conseguenza, dovette subire furiosi saccheggi. Nel 1841 si sollevò contro i Borboni, ma seguì poscia le sorti del Reame di Napoli, fino alla proclamazione del Regno d'Italia. Ebbe a soffrire assai per i terremoti attraverso i secoli. Ebbe una zecca pregiata per la bellezza delle monete che coniava. Può vantarsi di avere avute una delle prime officine ad uso di stamperia, in virtù di Adamo di Rotwil, discepolo di Gutenberg, che vi si trasferì nel 1482. Aquila aveva, attraverso le sue fortissime mura, 12 porte che oggi sono ridotte a sei. Porta Bazzano, Porta Romana, Porta Castello, Porta della Riviera, Porta di Colle Maggio e Porta Napoli. La città è attraversata dal corso Vittorio Emanuele e divisa in quattro quartieri. Ha bellissime strade e numerose, qualcuna stretta e in pendio. Ha moltissime fontane, palazzi antichi di vario stile e ammirevoli per superbe linee architettoniche. Le chiese più artistiche sono quelle di San Bernardino e di Colle Maggio. Sono pregevoli anche le chiese di San Silvestro, San Domenico, Santa Maria di Paganica, Santa Giusta, San Massimo. Tra i palazzi vanno notati quello dei tribunali, chiamato Palazzo per antonomasia, Palazzo Dragonetti, Palazzo Persichetti e il Palazzo Comunale, antico monastero. Il castello, costruito nel 1534, opportunamente restaurato, mostra la sua mole colossale, tuttavia intatta, ed è adibito a Casermaggio. Piazza del Duomo, Piazza Palazzo, Piazza dei Quattro Cantoni e la villa silenziosa e appartata, ed ecco che avrete in breve detto l'indispensabile di questa importante città. Ma vi assicuro che occorrerebbero molte cartelle se si volesse parlare degnamente della sua arte e della sua storia. Aquila degli Abruzzi, fin dall'antichità, ebbe industrie non indifferenti, tanto da essere considerata emula di Firenze. Attualmente svariate sono le sue industrie, pregiati i suoi merletti finissimi, che sono notevoli per il cosiddetto punto aquilano. Vi ha una fabbrica di tessuti di lana, un saponificio, una fabbrica di materiale di cemento, una conceria di stato in via di esercizio, un pregiato calzaturificio e in genere importanti nuclei di industrie per la fabbricazione dei tessuti di lino, dei tappeti di lana, delle corde per violino, dei cappelli di feltro e tanto altro. In Aquila ha sede la direzione della società Aterno per l'esercizio della ferrovia Aquila-Capitignano e per lo sfruttamento razionale delle torbiere di Campotosto. Come tutti i capoluoghi di provincia, anche Aquila tiene le sue brave società di autotrasporti. Esse sono la società Aquila e la società Gran Sasso. Quest'ultima è la più importante e gestisce le linee automobilistiche Aquila-San Demetrio-San Benedetto de Marsi, Aquila-Torno in Parte, Aquila-Sergi e Aquila-Borgo con le fegato. Essa ha un importante deposito di gomma Hutchinson, di petrolio e di benzina della società Nafta e può corrispondere a tutte le richieste e le esigenze dell'intera provincia. I turisti sanno dunque a chi rivolgersi in caso di necessità. Notevole è anche la fabbrica abruzzese di mobili artistici del Cavalier Francesco Masci, che ha opifici importanti a forza elettrica per la lavorazione dei mobili in legno e in ferro e delle sedie a Usovie, Vienna. La ditta fama è una delle più importanti di tutto l'Abruzzo e delle regioni finitime ed è senza dubbio l'unica di tutta la provincia di Aquila. Merita bene di essere segnalata alla riconoscenza dei conterranei per l'attenzione che richiama sulla nostra terra. Nei riguardi l'agricoltura, della silvicoltura e dell'allevamento del bestiame, il territorio dell'Alto Aquilano è molto produttivo. Lo zafferrano di Aquila, che poi viene raccolto non solamente in Aquila ma in tutti i territori limitrofi, va altamente apprezzato, come pure le razze dei bovini, degli equini, dei suini dei territori montagnosi dell'Aquilano vanno per la maggiore sui mercati e sulle fiere. Le fertili vallate dell'Aquilano producono cereali, lino, zafferano e legumi in abbondanza. I territori in collina hanno frutteti opimi, che danno alle vallate circostanti frutta in grande quantità. Aquila poi ha esuberanza di ortaglie ed erbaggi che crescono con opulenza sulle rive dell'Aterno sottostante. Numerose le fiere che vi si svolgono entro le mura della città. La più importante è quella in onore di San Pietro Celestino.